Mi trovo a Cantreai, presso il Centro Attività Formative della provincia per presentare la terza edizione di Pensa Trasversale. Pensa Trasversale è un'iniziativa di orientamento del nostro Ateneo che si rivolge agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori del Trentino. L'idea è quella di portare un numero ristretto di studenti in questa bella location per esporli a una breve ed intensa esperienza accademica. Si tratta cioè di prendere un tema, quest'anno il tema è errore di incertezza, e di svilupparlo a partire dalle prospettive delle diverse facoltà. Quindi vi saranno sette docenti appartenenti alle sette diverse facoltà in cui il nostro Ateneo si articola, che discuteranno il tema a partire dalla loro esperienza scientifica e culturale, mostrando la diversità dei linguaggi, la diversità degli approcci, la diversità delle sensibilità scientifiche e culturali. Pensa Trasversale del 2012 si svolgerà il 26 e il 27 di ottobre. Tutte le informazioni per aderirvi sono disponibili sul sito web dedicato all'iniziativa. Da lì potrete scaricare il modulo di adesione e potete partecipare alla selezione. Infatti il numero di partecipanti è limitato a 50, questo per creare un ambiente non troppo dispersivo, informale, possibilmente piacevole, per poter discutere di scienza e di formazione in un'atmosfera rilassata. Per cui vi attendo.